Nei giorni scorsi il TAR di Puglia ha bocciato la gara di appalto per il project financing di allargamento del cimitero comunale a Trani. Durissima la presa di posizione del consigliere comunale di opposizione sul tema Emanuele Tomasicchio. Sotto l'albero di Natale è un nuovo problema per l'amministrazione comunale, il caso cimitero. Diciamo che questa amministrazione, che si vantava di essere l'amministrazione delle competenze, e invece continua con il festival delle illegittimità, con il festival degli errori e qualche volta, come in questo caso, con il festival delle porcherie. Dell'altro ieri la notizia è che il TAR ha annullato la giudicazione definitiva dell'appalto di project financing per il cimitero di Trani. Io ero intervenuto molto duramente in consiglio comunale, evidenziando le lacune e le illegittimità di questo provvedimento. Come sempre accade, per il solo fatto che lo dica un fesso che magari fa anche l'avvocato amministrativista, nessuno mi ha voluto seguire e il consiglio comunale ha visto tanti quadrupedi alzare, politicamente parlando sia chiaro, alzare la mano e dopodiché il TAR sul ricorso di una delle imprese ha annullato la giudicazione. Si va di bene, parliamo di un project financing che aveva un importo a base d'asta di 10 milioni di euro e che viene aggiudicato a 25 milioni e 800 mila euro. Non si è mai visto da nessuna parte che si parta con un importo di 10 milioni e poi si aggiudichi in via definitiva a 25 milioni e 8. Che accade ora? Che accade? Accade che va fatta necessariamente una premessa. Il TAR ha tacciato di gravissime illegittimità il comportamento del comune di Trani, che tra l'altro insieme alla controinteressata è stata condannata a rifondere anche 10 mila euro di spese legali. A questo punto, dato che il TAR ha denunziato queste gravi illegittimità, le ha censurate, ha parlato anche di uno stranissimo comportamento del comune di Trani che ha avallato gli atti illegittimi piuttosto che fare, revocarli o annullarli in via di autotutela. È ovvio che annullata la giudicazione definitiva bisognerebbe ripartire là dove la gara si era interrotta. La gara è cominciata nel 2011 e se è cominciata nel 2011 la commissione che ha commesso questi errori non può più essere quella che deve decidere la nuova gara. Quindi bisognerà rifare la commissione, bisognerà rimettere le cose in chiaro, stabilendo dei criteri univoci e validi per tutti che garantiscono trasparenza e pulizia nella gestione di questo appalto. Allora a questo punto il mio suggerimento è annullare completamente la gara e farla ripartire ex novo facendo progetti capitolati e bandi che siano inattaccabili e che garantiscano la par condicio fra tutti i componenti.